Prenderà il via quest'anno il 21 ottobre per chiudersi il 19 aprile 2017 la stagione concertistica di Appassionata. Il cartellone prevede 11 concerti all'insegna della musica giovane e contemporanea. Tra le novità di quest'anno le iniziative dedicate agli studenti in collaborazione con scuole, università e Accademia di Belle Arti di Macerata. Inoltre eventi pomeridiani aperti al pubblico. Anche per la stagione 2016-2017 il comune di Macerata ha dato il suo contributo insieme alla Fondazione Carima. Ricordiamo anche i partner istituzionali, società civile dello Sferisterio, eredi dei 100 consorti e l'università. La stagione concertistica del Teatro Lauro Rossi 2016-2017 è davvero una stagione centrata sui giovani per tante ragioni. Siamo tutti perché gli artisti sono affermatissimi, hanno vinto premi internazionali importanti ma sono giovani. Abbiamo voglia di raccontare la cultura che sta nascendo, l'interpretazione musicale che sta nascendo. Ma poi c'è un altro elemento che Appassionata da tempo sta percorrendo ed è molto interessante. L'incontro con gli studenti dell'università, gli studenti delle scuole, l'incontro tra artisti e studenti proprio per promuovere sempre di più una cultura della musica, una cultura della musica per tutti, una cultura della musica che non è mai d'elite ma è una musica classica che può rinnovare e aumentare la conoscenza di tutti. Sì, quest'anno abbiamo voluto dare un taglio diverso. Dopo aver ascoltato i più grandi nomi del concertismo internazionale, Sokolov, Zimmerman, Krilov, Zuckerman, quest'anno abbiamo scelto appositamente di valorizzare e incentrare la stagione sui giovani talenti. Ma giovani talenti significa meno bravi dei grandi nomi, anzi, tutt'altro, forse la qualità sarà ancora più alta perché sono tutti, o quasi tutti, vincitori di grandi premi internazionali. Quali le novità, soprattutto da un punto di vista tecnico e di personaggi che magari potranno entusiasmare i lavorossi? Ma dunque, come al solito, il cartellone di appassionata è molto variegato, quindi non punta su una singola specificità. Vengono toccati tutti i generi, tutti gli strumenti, abbiamo gli archi, quattro recital di pianoforte, un concerto con fiati e pianoforte, spazio alla musica contemporanea e poi valorizzare anche le eccellenze del territorio. Quest'anno appassionata ha voluto organizzare una stagione tutta dedicata ai giovani. Dopo un anno di nomi altisonanti e di personaggi di spicco mondiale, quest'anno abbiamo voluto valorizzare i giovani talenti. Quindi sarà una stagione impostata tutta sui giovani. Il primo concerto, che sarà il 21 di questo mese, ospiterà, anzi, nel primo concerto ci sarà un complesso orchestrale che si chiama il Colibri, è un complesso di nuova costituzione e composto da tutti i giovani. Sarà un concerto importante perché segnerà per noi una trasferta e in questi primi anni di attività è molto importante anche farsi conoscere fuori. Verremo insieme a un grande musicista, Alessandro Moccia, primo violino dell'Orchestra di Champellise di Parigi e con lui porteremo un programma sensazionale, quale è la settima di Beethoven, quindi diciamo la giusta grinta per aprire una stagione. Oltre a questo concerto che lei ci ha pronunciato, quali le altre novità per la stagione sul finire dell'anno e soprattutto per l'anno prossimo? E quanti concerti ci saranno con l'innesto della Sam Colibri? Sì, poi ritorneremo anche con una formazione di musicisti che in parte sono parte di quest'orchestra in un concerto sempre della vostra stagione qui a Macerata. Il gruppo si chiama Podiformes e coinvolge quindi degli strumenti a fiato, cinque fiati con il pianoforte, un pianista che suonerà insieme a noi.